E anche l'edizione 2016 della Madonna delle Milizie a Scicli è andata in archivio ottenendo un grande successo di pubblico e un ottimo riscontro della critica. Quest'anno la sacra rappresentazione che rievoca il fatto d'armi del 1091 tra Normanni e Saraceni è ritornata a svolgersi nella sua originale location Piazza Italia con il tradizionale castello rispettato anche lo storico testo Pacetto Vanesia. Quest'anno il Comune si è fatto supportare nell'organizzazione dell'importante festa sciclitana dall'Associazione Patriarca Folclore e Tradizione nota per aver portato lustro alla città con un'altra importante festa la Cavalcata di San Giuseppe che da cinque anni oramai viene organizzata da questo gruppo di giovani sciclitani. La regia di Gino Savarino è stata fluida con nemmeno tempi morti rispetto alle passate edizioni. Lo stesso Savarino ha interpretato il ruolo dell'emiro arabo belcane. Il Conte Ruggero è stato interpretato ancora una volta dall'attore comisano Biagio Barone dal 1991 tranne qualche edizione è stato lui a guidare il popolo sciclitano durante la battaglia contro gli avversari saraceni schiacciati grazie all'aiuto della Madonna sul suo bianco cavallo a corse in aiuto dei cristiani. Quest'anno però la Vergine Maria è apparsa davanti al pubblico in assoluto silenzio si è presentata in Piazza Italia e poi ha percorso alcune vie della città senza essere accompagnata dalla banda del paese. Piazza Italia era piena di spettatori molti turisti ma tantissimi ciclitani che non hanno voluto mancare alla sacra rappresentazione del fatto d'armi del 1991. Ad aprire la serata i tamburi imperiali di Comiso che percorrendo alcune vie della città hanno annunciato l'inizio della festa. Poi i giovani studenti dell'istituto comprensivo Elio Vittorini che hanno portato sul palco un zunto del racconto Correva l'anno 1991 premiato con menzione speciale al concorso nazionale letterario Raccontare il Medioevo. Lo spettacolo posta da presentazione è stato curato dai Tammurra, band locale ciclitana composta da Carmelo Herrera, Alessia Carnemolla, Piero Vasile, i fratelli Lopez, Peppe Ignazio e Carmelo. Nel loro concerto brani dialettali, canti d'amore, canti di lavoro rivisitati e riarrangiati che ben si sono amalgamati con la serata. Dunque ottima scelta. L'edizione 2016 della Madonna delle Milizie è stata seguita in diretta tv e streaming in esclusiva da Canale 74. Tante le telefonate e gli sms di telespettatori che impossibilitati ad assistere direttamente alla manifestazione da Piazza Italia hanno potuto lo stesso vivere i momenti salienti della sacra rappresentazione. Nei prossimi giorni Canale 74 proporrà le repliche della festa date e orari. Saranno comunicati attraverso i nostri canali di informazione. Grazie a tutti.